In primo piano i risultati dell'esame di maturità, un anno straordinario nel quale però spicca il record negativo del liceo Alessandro Manzoni, la peggior scuola d'Italia. Il 50% di promosse alla maturità o il Manzoni chiude? Come chiude? Scrivete il vostro nome. Avete un'ora di tempo. Ma non abbiamo due ore oggi? Scrivete anche il cognome. Papri! Un grande desiderio di combattere! Vediamo a che punto è la vostra preparazione. Pronti? Via! Non mi importa se studiamo o se ci diplomiamo. È per colpa di gente come loro se le cose stanno così. Loro ci hanno provato. La scuola in cui credo è quella che ti fa vivere ogni lezione con il corpo, la mente, lo spirito. Quando ripenserete a questi anni saranno stati più belli della vostra vita. Professori perfetti non esistono. Ma esistono anche professori che nonostante tutto ci credono ancora. Ho capito bene. Puoi rubare le prove scritte dell'esame di maturità? Esatto. Lo sento. Sarà una nota drastica. ��� dicte! Sì, sì! Sì, sì, sì. Sì, le sei. Sì, le sei.